Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta sul mio canale youtube per un nuovo video di Fallout 4 In questo video voglio mostrarvi come eliminare rapidamente e con una strategia molto semplice la regina de Mirelurk Un mini boss presente all'interno della missione Il Castello In cui dovremmo aiutare i Minutemen a riconquistare la loro vecchia base, il castello presente all'interno di Boston In questa clip vi sto mostrando che potrete trovare un lanciarazzi e un lanciafiamme all'interno del castello stesso Che cosa vi consiglio di portare? Innanzitutto steampack, medex per i duri danni subiti, un'armatura atomica obbligatoriamente perché se no è impossibile Un lanciarazzi e il più alto numero possibile di munizioni sia per il lanciarazzi che per i fucili da cecchini Queste sono le due cose da non fare, andare in giro senza armatura atomica perché una sua abilità è appunto una falciata che ci ucciderà Se non indosseremo la nostra armatura E l'altra cosa da non fare appunto è stare davanti al boss sia con l'armatura che senza Perché? Perché spara appunto un getto di acido corrosivo che ci eliminerà anche all'interno dell'armatura Questa è la mia strategia, io ho portato l'armatura all'interno del castello, sono entrato, ho fatto le prime due step della missione Adesso vi mostrerò anche di lanciare delle mine qui davanti dove spawna E sappiate che i minutemen un po' vi aiuteranno ma non saranno decisivi per la sua eliminazione Una volta lanciate le mine vi rintanerete all'interno delle mura perché i getti di acido non riusciranno a penetrare le pareti Quindi farete avanti e indietro tra la porta e i vari portoni di accesso all'interno del castello Sparate con il lanciarazzi finché non avete finito le munizioni Se riuscite a ucciderlo con il lanciarazzi è meglio perché farete molto più velocemente Io ho poche munizioni e quindi sono stato obbligato a continuare questa strategia utilizzando un fucile di precisione Qui ho finito appunto i proiettili e sono entrato all'interno del castello Come potete vedere il metodo più semplice è questo, sparare appunto dalla finestra Sempre facendo attenzione da cosa arriva dalle porte Perché ci saranno appunto delle proli e dei mire lurk che arriveranno spawnati appunto dal boss e che dovremo eliminare Una volta eliminati questi piccoli adds che spawneranno all'interno Continuate a focussare il boss finché non morirà Per questo video è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo nella prossima puntata, ciao! Alla prossima Grazie.